No, con la mano fuori eh! Allora, con la mano in teoria fuori! Spera, aspera, aspera, fai un corno su e fai la grappata di prima perchè... No, no, non è neanche così, esci un'altra. Prendi giù. Giù l'orezza, guarda l'orezza. La spada è sotto. Spada è sotto. Spada è sotto. Sì. E abbracci la scala con l'impianto. E la punta verso l'altro è che... E qualcuno... Sì. La mano... Non lo so. No, perché... Mori, non sta sotto. No, no, lo facendo il video. A vero. A vero. A vero, a vero, a vero. A vero. A vero che ero sotto. A vero sotto, sali, sali. La vero sotto, Giacomo. A vero sotto. Cacca! Occhio all'olio! A spana. Se fa la cosa, se fa la cosa ci vuole una scala è uno sempre in fine di ciocchi. 4 grazie il gioco ma guarda che l'ho figliato no dai lì fai di tirare i giochi ci prendo anche il parapalle cazzo se scivola è veramente feragio vai, questo resto fai finta di solide piano 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 però vai, tira, tira, tira e ora tengo il fitto le pizze sotto i piedi è lo spettato, la bomba allora l'idea è che con la notella come dice Nassoni, si è inviato comunque con questa mano di fare qualcosa si, queste notelle non vanno bene queste notelle c'hanno una mano proprio interna questa mano deve essere molto vicina al posto no, provate a... attenzione una volta la scala si è aperta anche una volta così si è aperta dentro, dentro si è aperta così un bel bel altra scala con quest'altra mano sale così ecco e, si, si tolga la scala e, un orecchio con l'espo un orecchio fisso appoggia sotto la ricerca non c'era per il l'espo non c'era per il l'espo poi se quando si stanno soffi ah, carica, c'è la scala scusate perchè se se stai tenendo la tenuta di scosta e ti arriva il cazzo di osso se la stia da un tempo e si stia alla volta se la stia appoggiata a limite bascola questa è la esperienza da serio è una grande esperienza da serio lo provate non c'è la devo scape grazie a tutti grazie a tutti